Sirene Red è tornato! Sì, quel mostro alto, gigante, che fa questo suono qui! È tornato nelle nostre case e vuole mio figlio! Ma mio figlio è un cretino perché praticamente sta tutto il giorno dentro i videogiochi! Ma proprio dentro! Come posso fare? Mi serve il vostro aiuto. Venite in questa avventura con me. Ok, sono a casa e sto riparando una radiolina e la radio dicono che ci sono stati tanti morti in una cittadina vicino a casa mia. Strano, vabbè. A me non interessano queste cose. Io sono un giovane padre di famiglia! Tempo di andare a letto, figliolo! Basta giocare! Ma cosa sta giocando? Ma cos'è in testa mio figlio? Ma è Tonino Stark! Vabbè, un attimo che devo continuare a lavorare. Ovviamente sai come sono i genitori. La prima volta gli ci vai a letto. La prossima volta arrivi con il battiscopa. Il battipanni, il battiscopa è un casino. Comunque devo riparare un po' la radio. I cittadini devono stare a casa, dice la radio. C'è qualcosa che sta succedendo in questo posto. La mia passione per radio e motori mi ha portato forse a salvarmi la vita perché sta succedendo qualcosa di strano. Lockdown. Siamo in un lockdown. No, basta con sti lockdown! Basta! Spedisci Thomas a letto! Thomas! Mamma mia! Se ti prendo e ti faccio volare! Ma lui non sta giocando quello! Lui sta giocando col suo Meta Quest 88! Mamma mia! Questo è sicuramente mio figlio da grande! Cioè con un genitore come Gabby cosa puoi diventare? Sei un bimbo nudo! Cioè a petto nudo! Ma chi ti credi di essere? Ma quando... Ma dove vai? Thomas! Thomas! Ascolta tuo papà! Ascolta tuo papà che non abbiamo più una mamma che mi ha lasciato e scappata via perché non ce la faceva più con un figlio come te che non ascolti... Non riesco a farmi rispettare da mio figlio! Non riesco! Ecco! Cioè dopo 48 ore davanti ai videogiochi dorme pure con il casco! Questo non lo molla mai! Thomas il trenino! Buonanotte! Io adesso vado anch'io a dormire! Da quando ci ha lasciato tua mamma... Non è più la stessa cosa! Non riuscivo... Non riuscivo a farlo staccare dai videogiochi! Ci ho provato! Devo sposarmi una nerd! Oh! Sogno o son... Destus? Oh! Oh santo cielo! Ma che è successo? Il suono ci ha colpiti! Perché sto... Indossando questa maschera? Non mi ricordo niente! Ma è la maschera di coso? Di mio figlio! Thomas! Oh! Sono stato sbalzato fuori da casa mia! Thomas! Oh! Le sirene della città me le ricordavo un po' più piccole! L'auto del vicino che mi prendeva per il sedere! Guardalo! Mamma mia! Ma... Thomas mio figlio no! Ma perché queste cose succedono sempre... In America! La patria degli squilibrati! Sirene della sirene della sirene della macchina e scappa da Siren Head! Là c'è una macchina... Non credo che quella sia funzionale! È velocissimo! Siren... È quella la mia macchina! Sirene... Fai il cuore! Fatti in moto! Non mi frega niente! Thomas! Devi pensarci prima Thomas! Dov'è qualcosa? Sto controllando dietro! È vicinissimo! È vicinissimo! Mamma mia! Manco Tom Cruise sulla guerra dei mondi! Si sentiva così! Devo scappare da... No! Cavolo! Ho fatto un backflip! Ne ha approfittato tantissimo! Ne ha approfittato! Devo scappare sul monte Fuggi! Fuggi sciocco! Scappa sul monte Fuggi! Dobbiamo Fuggire! Fuggiamo! Mi ha rotto il finestrino! Non te la perdonerò mai! E non me l'ha rotto mica a botte! Me l'ha rotto col suo suono! Perché il suo suono distrugge le case! Mi distrugge! Mannaggia! Fuori dalle balle! Ma che auto! Che backflip! Santo cielo! Santo cielo le sue mani! È vicinissimo eh! È vicinissimo! Ma io sono speedhacker! Io sono bullseye! Non lo so dove sto andando! Non ho tempo di pensarci! Qua... E va bene! Mi ha tirato una mano... Lo... Ah! Mi ha tirato una zampogna! Le montagne contengono un tunnel dentro! Posso scappare lì? Sei lì! Devo andare! Devo andare nel tunnel! Nel tunnel lui non può prendermi! Le sirene non possono andare nei tunnel! Questa macchina veramente... È una di quelle macchine che ho comprato! Sapevo che mi avrebbe salvato la vita! Se non mi fermo! Perché è molto vicino! Vedo la sua sporca ombra! Dai! 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 Non mollarmi adesso! Catapecchia! Non mollarmi adesso! Il tunnel è il... Senti! Senti com'è arrabbiato! Senti com'è arrabbiato! L'ho fatto... Cosa ha tirato? Ha tirato un ululato! Ha tirato! Mi ha fracassato la strada! Si sta provando di nuovo! Guardalo! 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 È un terremoto quel ragazzo! Ok! Ok! Sto perdendo il senso! Sto perdendo il senso! Scappo nella foresta! Gli tendiamo una trappola! Così bisogna fare con i giganti! Scappare nella foresta! Nasconderti negli alberi! Tornare alla natura! Qui non mi prende! Guardate! Ci prova! Ci prova! Ci prova! Niente! Ha un ugula troppo potente! Ha un ugula troppo potente! No! Basta! Tunnel! Non può prendermi! Cioè è grande e grosso ma dentro il tunnel voglio vedere! Cosa ci infila la sua sirenetta là dentro? Voglio proprio vedere! Voglio proprio! Mamma mia! Mamma mia! Corri e nasconditi! Mamma mia! Mamma mia! Sta tirando delle... Oh! Devo andare alla fine del tunnel! Guardalo! Guardalo! Ha messo la sua sirenetta proprio qui dentro! Ma ce la so con me! Perché? Perché io sono il prescelto sono! Io sono il prescelto! Guarda quanto vento che fa! Cioè oltre a trombettare fa anche la... Oltre a trombettare con quella faccia di... Eh son morto! Ma che cavolo di... Che cavolo! Oltre a trombettare con quella bocca... È un ottimo ventilatore quell'uomo! Mi sta facendo male! Mi sta rompendo il casco! 3, 2, 1, corri! Sì però... Oh! 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 Eh sì! Vaffan cacca! Allora non posso stare troppo nella sua scoreggia! Sennò mi uccide! Mamma che alito però! Uuuuh! Per un pelo! Cioè quell'aria proprio ti fa volare! Ti fa un massaggio alla schiena! Non la sento più! Non la sento! Non la sento... No! No! Così! Avevo una macchina davanti! Mi proteggeva! Ormai Thomas è un lontano ricordo! Ormai... Andato via come la mamma lui! Non importa! Ora devo... Stare attento a sirenetta! Stare attento a sirenetta! Ambulanza! Ma servirà sì! Ma non per me! Per Siren! Quando gli avrò messo un tappo di sughero su quella bocca! Vai, 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 vai! Eh sì! Vai a cagare! È quello! Vai! Sprintata epica! Ma... Sì! Sì! Battuto! Dentro il ca... No! 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 Forest! Forest! Infiammabile! Non ha senso! Ah! Da questa parte! Totalmente a caso! Cosa scegliamo? La luce? Sempre una gioia! Vabbè! Nel tunnel di servizio! Ok! Ok! Mi son buttato via il casco! Questa roba è gigante! Ed è viva! Vuole noi! Vuole i nostri bambini! Nascondete le donne! Nascondete i bambini se ce li avete! Io non ce li ho più! Gli ho persi! Mi li ha mangiati quella cosa! Devo costruire un'arma! Un'arma per sconfiggere la bestia! Crafting! Tutto quello che riuscivo a sentire sono sirene! Ma io ve le... Io non... Le sirene devono stare al mare! Devono stare le sirene! Ora crafterò qualcosa di epico! Io sono fuso adesso! Perché è il fusibile! Dove lo crafto? Mi spieghi come crafto un fusibile senza i fusibili? Ho craftato un fusibile! Ora devo connettere questo fusibile con gli accendini alla tanica? Sì! A quanto pare quel casco che ho in testa mi serve per proteggermi! Sto usando il VR di mio figlio per salvarmi la vita! Ok ho un filo! Ho connesso il filo a qualcosa! Voglio fare tipo una bomba! Mi sa che voglio fare una bomba! Gli do fuoco con l'accendino! Prendo l'accendino... Questa è benzina! Ti do fuoco! No? Sì! Sì! Questo farà un casino eh! Dovrei sentire il botto tra... L'ho sentito! Sì! Otto ore dopo! Ho sbattuto la testa sul muro! Otto ore dopo! Ma che diavolo è stato? Dove sono? Perché? Thomas! Thomas! La mia testa! Thomas! Sono tra... Thomas! Santo cielo! Per un ottimo ho visto Thomas che è diventato tipo un uomo nero gigante che usciva dal mio armadio! La mia paura più grande! Che Thomas diventasse i mostri che vede lui nel suo caschetto! Cacchio di Thomas! 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 Stai be... Thomas! Sta ancora dormendo! Lui non si sveglia neanche con le cannonate! Perché andiamo in giro con gli elmetti però? Non ha senso questa cosa! Non... Non lo spiegano il perché andiamo in giro con gli elmetti! È per paura che arrivi Siren Head un giorno e ci mangi e quindi per proteggerci le orecchie? Oh! Mi ha picchiato! Porca vacca! Devo stare attento c'è l'allucinazione che mi segue! Che vuoi da me? Fuori! Fuori dalla mia vita! Investica la finestra rotta! Quale delle 800 finestre che ho in casa? Per forza questa! La finestra è rotta da... Da questo rumore! Ah! La mia testa fa male! Mi gira la testa! Mi gira la testa! Veniva... Da lontano! Questa è stata la sera prima che è successo il fatto... C'ho... C'ho pure una cantina! È qui! Thomas! Thomas che fai qui? Avevi paura? Ti sei tolto il casco? Vare che nerd! Guardalo, guarda! Ah! Thomas! La cinghia devo riprendere con te! Non era il vero Thomas questo! Questo è lo spirito di Thomas, il trenino! Oh! 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 È arrivato! È arrivato! Mi ha tirato un colpo così forte che adesso mi fa saltare la casa! No, siren! 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 Ecco! Ecco il ricordo! Ecco il ricordo! Thomas! Cioè, perché ho chiamato mio figlio Thomas? Questo è il suono del treno! Thomas! E sono riuscito a prendere il casco che è arrivato in volo! Tipo a salvarmi la vita! E grazie al casco non sono morto perché mi sono... Mi sono messo il suo casco che non si sente il rumore! Quando i videogiochi ti salvano la vita! Non mi fai niente! Non sento niente! C'ho il caschetto protettivo! Cioè, insomma, mi ha fatto qualcosa! Mi ha mangiato! Ma questo gioco è droga! Cioè, quello che ha fatto sto gioco... Si è... Si è fatto di qualcosa! Per forza! Quindi è successo quello! Thomas è stato scaraventato via! La barahonda! L'onda del suono era così forte che gli ha fatto volare via l'elmetto fuori dalla testa! Mannaggia! Thomas, ora ricordo! Il tuo giocattolo! No! Devo vendicare il mio figlio! Beh... Adesso finirà! Hai preso tutto da me! Hai preso tutto! Ok! La mia unica possibilità è combattere! Beh, finalmente adesso si vede! Che devo fare? Posso usare il gasolio e le bottiglie per fare un'arma! Uh, un megafono! Ottimo! Rispondiamo al suono con il suono! Vai, ho creato una molotov! Magari ha attaccato la casa usando lo statico della tv! Ma certo! E ora? Magari se... Magari se uso lo statico! Ma certo, lo statico! Lo statico, ragazzi! Devo usare un dispositivo per aumentare lo statico! Lo creerò io, ragazzi! Con il mio genio! Quattro pile! Un nastro adesivo! Un megafono! Ma certo! Potrebbe essere for... Migliore! Ma questo dovrebbe funzionare! Ma che migliore? Vabbè! Basterà! Uccidi Siren Head! Finalmente, ragazzi! Questa volta è la parola fine! Hai i tuoi rumori assordanti! Non ci dormivo alla notte! Sempre... Bleh! Bleh! Sei peggio della mia sveglia! Peggio della mia sveglia! Sei Siren Head! Ti blocco gli attacchi! Dai, provaci! Aia! Mi ha ucciso! One shot, one kill proprio! Rispondo alla sirena con la sirena! Così si fa! Sì, vabbè! Mi uccide dietro i muri! Fermo lì! Fermo! Non puoi niente contro di me! Ma fa il cuore! Puoi tutto invece! Faaaa! Eh, ancora? Guarda come le freno! Sono un uomo! Voilà! Chi è? Ti sveglio io adesso! Ti sveglio io! Non puoi niente! Guarda, 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 guarda come le barriere! Continuo a mandarle! Io gliele freno tutte! Sono un Siren Head! Sono diventato il mio nemico! La cosa che odiavo! Sono diventato io! È un ritmo game! Guarda che continuo! Guarda che continuo ad evocare le sue palline! Non puoi più niente! È intrappolato! Il tunnel è collassato e Siren Head è rimasto lì! Che scemo! Ti faccio esplodere! Gli vado in bocca! Gli vado! Gli ho tirato la Molotov! Ooooooo! Scemo! Scemo! Adesso si è liberato però! Era intrappolato però il pepe! Il peperoncino in faccia! E' mo' svenuto perché Ci ha fatto una roba ragazzi! Ho combattuto contro Siren Head! Ho bisogno! Di pace! C'è un eroe ragazzi! Massimo! Ok! Dai! Dai eroe! Alzati! Che sei tutti noi! Ha salvato il mondo! Guarda per terra perché ovviamente ha paura! C'è gli incubi la notte! Se alza la testa e vede quel mostro! Meglio guardarsi i piedi! Guarda che miei piedini! Niente! Svenuto perché Se non svegno ogni 3x2 non c'è il pathos! Questo gioco ragazzi! Più bello da vedere che da giocare! Vai! Mamma mia! Dove siamo? In che zona sismica? Aiuto! Mamma mia! Deve essere veramente... Cioè i timpani ti esplodono! E cosa succede adesso? La nucleare! Hanno tirato un'atomica! Ovvio! Che bello! Mamma mia! Cioè trama! È comunque una storia d'amore migliore di Twilight! Dai! Ah signore! Sì! A cosa ho giocato? Bad ending! Siren Head è scappato pure! Se solo avessi amplificato il... Come? Come potevo amplificare? Sei tu che non mi hai lasciato amplificarlo! Io volevo amplificarlo! Io volevo amplificarlo! Krakatoa! Se forse significa Siren Head in russo! Non lo so! Aiuto! Eh vabbè! Dai! È una persona! Cioè diciamo su carta l'idea era bella! Ma c'erano tante cose strane! Cioè era più strano mio figlio di Siren Head con quel dannato casco! Perché abbiamo questi cas... Io ho molte domande! A quanto pare per la good ending dovevi craftare un po' meglio! Sto vedendo! Dovevi usare più attrezzi! Vabbè alla fine hai creato una super sirena! Lo uccidi a suon di botte perché vi fai perdere la vita! Ok! E dopo averlo bruciato e ucciso lui muore! Quindi vedete non scappa più ma muore e basta Siren Head alla fine! Svieni di nuovo ovviamente se no non sei un eroe! La tirano o non la tirano? Non la tirano perché Siren è morto! Quindi potrai tornare la tua vita ma senza un bambino praticamente! Good fino a lì insomma! Hai ucciso Siren ed hai salvato il mondo ma hai perso la tua famiglia! Bello per la grafica per alcune cose! Mi ricorda un po' Slender di Arrival come stile! Solo che questo era un po' più buggato e strano! Ma mi fa venire voglia di un gioco fatto bene di Siren Head Perché gli elementi c'erano ma secondo me si potrebbe fare qualcosa di molto più carino Sempre con Siren Head perché è molto bello come mostro! Cioè mi piace un botto il setting! Cioè le idee erano belle ma l'esecuzione è meh! Però comunque dai carino vi lascio il gioco in descrizione se volete spendere un centesimo e provarlo Costa tipo un euro neanche Vi ringrazio per la visione di questo video Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi del gioco Noi ci vediamo in prossima avventura e ciao ragazzi!